21 agosto 1995 muore a fregene sul litorale romano il regista e attore nanni loi inventore della candid camera la usa per la prima volta nella serie televisiva specchio segreto del 1964 nella quale provoca con grandi effetti umoristici le più imprevedibili reazioni da parte delle ignare vittime delle burle architettate ai loro danni sempre per la televisione dirige nel 1994 il film a che punto è la notte tratto dal romanzo di fruttero e lucentini per radio 1 nel 1981 scrive insieme a marco di tillo e annabella cerliani il programma amore vuol dire andato in onda per oltre 50 puntate fra i film da lui diretti detenuto in attesa di giudizio e sistema l'america e torno insomma malgrado tutto ridono non siamo riusciti a farli arrabbiare nemmeno questa volta grazie